Gianni Turturro Garofano, dove dici i figli di Garofano, i figli di Garofano, i figli di Garofano. Dopo aver scoperto che Gianni, Aida e Nicolas Turturro appartengono ai Garofani, Frank seppe di una palestra con una giovane e saltellante cugina Turturro, vedendola avvenente, diede fiato alle trombe. Sperando che il successo potesse arrivare da ricci marini locali, Nescroccò un paio davanti ad una pescheria e, non contento, si fece invitare a pranzo da un altro ramo della famiglia Turturro. Lui per noi è come un fratello. Che tipo di personalità tiene Gianni? E' uno pazzo, è uno calmo, è gentile. Più alto, non è grosso, è robusto. Un altro importantissimo indizio si aggiunse. Frankie, soddisfatto e speranzoso, meditava sul da farsi per agganciare le star Turturro. Fece un paio di telefonate e alla fine la grande notizia arrivò. What? No, John e Ida Turturro in Venice? Giungemmo a Venezia senza invito. Frankie fece un giro in città cercando informazioni sulle residenze di John e Ida Turturro. Importunò vari turisti, cercò anche qui di farsi notare, sperando in gloriose interviste e facendosi distrarre da spaventate passanti. Mentre le suole delle sue scarpe tendevano ad esaurirsi inutilmente, in un vicolo nascosto accadde l'imprevisto. Aida! Aida, andate a Turturro. Buona, orita. Buonissimo, Aida. Buonissimo, Aida. Buonissimo. What are you doing in Italy? Do I know you? I'm Faccia Tosta, Frankie Faccia Tosta. Nice to meet you. Pleasure. You're very beautiful, Aida. Thank you. That was sweet. Thank you. Aida, I met all of your family. I met your cousins. Oh, yes, yes. I met all your cousins. and I'm in Puglia because I'm trying to find out the secret of success. Oh, well, that's a big secret. I want to be famous like the Turturros, like the Mantegnas, like the Salones. They're all from Puglia. Yes, I heard that Joe Mantegna was here, you know, from Puglia. And my family, I went to visit my family maybe about two years ago and beautiful. How was Puglia for you? Oh, well, it was beautiful. My family's from Giovanaccio, outside of Bale. and it was a very, it was a really special time because the family, when I met them and I didn't know them, they welcomed me and I felt like I was home and they were my cousins and they were my relatives and I just felt like I knew them my whole life and they were so warm and, 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 you know, they had this whole kind of artistic thing that the family has, you know, my family, like, John's an actor, Nicholas, and then my father was a beautiful painter and, you, they talked very highly of you and it's just amazing seeing you, you look beautiful. I got a case for you. Okay. Wait a minute. I'm in Venice. I'm all, I'm all shaking up. And just that I'm traveling town to town. I mean, I've been to Stallone's town. I've been to Mantegna's town. and I'm just trying to find out the secret. You know the secret. You just don't want to tell me. No, I think the secret would be in people's hearts. I, I think that it's the heritage. I think that it's a culture, people who have been invaded, people who have suffered and, and then to take their, what's inside, to take their pain and their emotions and, and kind of try to enjoy the beauty of life and the happiness of life and express whatever through their art, through their music or through their acting or writing or whatever it may be or their painting. I mean, I always say, wow, my father was a painter, my cousins, my sister. You know, there's all this stuff coming out, my family, so much. Like, it can't just be a coincidence. Right, right. I'm going to continue my search and you're going to tell me the secret next time I see it. I gave you most of the secret. Now you have to tell me your own secret. Give me a kiss because. All right. I'm going to go. Come si può osservare, Franky si appiccicava alla povera Ida, forse sperando di sedurla e magari scovare il segreto del successo dei Turturro. Dopo aver dato anche a lei l'ormai stucchevole garofano, arrivò rapidamente la sera. Ma John Turturro non si vide. I misteri delle notti veneziane si manifestarono curiosamente nel nostro destino. Giorni prima, nel New Jersey, Franky mi presentò un altro carissimo amico del suo ambiente statunitense. Eccolo qui. Io mi aspettavo un attore affermato, ma mi presentò l'ennesimo sossia. In quel periodo negli USA impazzava la serie soprano e così il suo amico Donald scroccava qualche dollaro imitando un altro immenso attore italo-americano, James Gandolfini. Nonostante il flusso naturale di Franky ci portava a frequentare soltanto Sossia, quella notte il destino lavorò per noi. Infatti, l'avremmo trascorsa incredibilmente con il vero James Gandolfini. John Turturro ci fece sapere che l'avremmo potuto vedere al Festival di Venezia. Franchi era in ritardo. Io ero Gianlu, tutti iniziavano ad arrivare tranne Franky che si era perso tra le strade di Venezia. John Turturro temporeggiò ad entrare, tutti aspettavamo Franky. L'attesa però fu vana e John mi mandò un saluto affettuoso ed entrò. Ah, per la cronaca, Franky arrivò quando tutti erano andati via. John Turturro non vedeva l'ora di incontrare Franky. Lo volle avvicinare prima a Napoli, ma solo per una fotoricordo distanziata. Poi a New York, ma Franky non trovò la sua abitazione. Infine a Roma, dove finalmente, essendo stato informato dell'imminente successo di Franky, si lanciò in complimenti pieni di ammirazione. Io sono più famoso che tu. Gio, cosa ha fatto succedere per te? Cosa è la cosa che mi ha fatto Gio Tarturro explodere? Perché, io sono proprio famosa come tu. Non ho, hard work. Non ho mai mai avuto qualcosa che non mi ha fatto come boom, boom. Tutti era incrementale per me. Io avevo un po' di questo, un po' di questo. Io avevo un po' di teatro per un lungo, lungo. E poi da qui qualcuno mi ha visto. Io sempre ho fatto bene. Quando ero in scuola, ho lavorato molto forte. Ma non era così. Alcune persone sono davvero talenti, Alcune persone sono davvero talenti, e poi lavorano molto bene. Quindi dipende di quanto hai avuto il tuo talento. Alcune persone sono fortunati. Come tu. Tu è solo un personaggio. E tu è scurricionato. Molto fai. Quindi è diverso. Ma cosa hai fatto con il tuo primo grande film, il tuo primo grande cibo? Io ho spostato con i miei amici, le donne, le campagne. Non mi. Non. Non mi. Non mi. Non mi. Non mi. Perché io ho capito, quando ti rendi un po' di money, non ti rendi sempre. Quindi se ti rendi l'acqua, poi puoi fare quello che vuoi fare. E questo è più importante per me, che vivere in large. E finalmente... People si fanno fai fai di me, perché io avevo un po' di teatro. E non mi. E' stato pensato, ma mi. E' stato pensato, ma non mi. non mi. John Turturro confermò quanto da noi saputo circa il suo primo contatto con la Puglia e, congiuntamente, le sue prossime intenzioni. che voleva fare tranquilli. Io ero in Yugoslavia. E' stato vicino. Ma mio padre ancora era al vivo. Quindi... Io volevo andare là per fare un foto e cose che ho avuto. Però non ho mai avuto. Perché aveva lasciato quando ero 6. I think he only was on one plane I wanted to take him back with me But he didn't feel well Enough to do it If he would have felt better I would have taken him My cousin Ralph had gone there first And he found everybody And then I went there And then Aida went there And Nicholas went there You know I haven't been back Because a lot of times when I come here I work If I worked in that area then I could spend, you know I can't go for one day I'd rather spend, you know Maybe I bring my children there But maybe I'd make a trip in Italy in the summer or something I'll go there Frankie era comodo con il suo mito Anche perché gli offrì il pranzo Frankie si sentiva già ad Hollywood E così tornò fiducioso nel New Jersey In attesa di una chiamata Passarono alcuni anni E nonostante le pericolose prove d'attore Avviate nel suo quartiere Nessuno lo chiamò Mi venne allora in mente un episodio veneziano Che sapeva di futuro Mentre Frankie cercava di farsi notare Da giovani turiste Dietro di lui Una donna veggente chiedeva insistentemente Dei soldi per predirgli un successo imminente Ma purtroppo Frankie Non avendo soldi Non volendo farlo intuire alle turiste Ignorò totalmente la veggente Attirandosi inevitabilmente decennali maledizioni Un giorno, a sorpresa, mi inviò questa clip Il pensionato George W. Bush Vantava il nostro Frankie? Mi disse che lo stesso non riuscì a farlo inviaggiare come attore Ma riuscì a farlo assumere come ispettore elettorale Questa prima serie si chiude così Per la carriera di attore Frankie doveva attendere ancora Ma saperlo nel ruolo di ispettore elettorale Ci ha solleticato una domanda Vuoi vedere che Frankie Facciatosta Avrà avuto qualche responsabilità Nelle contestate elezioni americane?